Ciao a tutti ragazzi, sono Dynamki e oggi faremo un video speciale, video, che in capo non è speciale, video su P.D.2 Come vedete, sentirete i rumori della mia tastiera perché ho cambiato il microfono, infatti questo microfono è più potente, non penso che sentirete tutte le vibrazioni, ma in cambio sentirete... Sentirete, vantaggio, vantaggio a te, va in cambio e sentirete i criti della mia tastiera e del mod. Siccome io sono già stato in questa mappa, con parole, vi faccio vedere tutto, tutto qua, vi lascio il codere. Tanto, 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 la musichina del... la musichina del... Musica, la musichina del... De, de, de... a te muori, 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 muori sembra che stai giocando a battlefield in easy mod cioè è facile ucciderti sul mente no, no, vabbè c'è poliziotto bravo, uccidio, mannaggia lo stordente ci hanno tirato cazzo, dove cazzo sono? comunque la moschera ha molto, ha molto grinta adrenalina chiamiamola adrenalina è venuto lato quindi abbiamo capito che è venuto lato perché c'è una specie di valigetta nella mappa non so quanto cavolo durerà questo Q-Play forse cinque minuti di potassi o anche di altri 5 minuti mannaggia ma cosa? trattate che metto, come si chiama? la valigetta per il medikit basta premere G per chi non lo sapesse ma penso che lo so piante perché sicuramente siete più pro gamer di me perché io sono un idiota e mi stanno uccidendo mi stanno uccidendo trattate che faccio un po' di uccidio ma dai che ho lusato ora mi piccano a postino oh oh help 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 oddio no grazie amico, grazie amico grazie mille grazie abbiamo guadagnato più bonus vabbè queste sono tutte le cavolate varie 35 balance le guadagniamo solo 35.000 non fa niente in tutto il pokebrow le ho 140.000 da spendere cioè per dire che non è tanto però già perché questo è proprio livello basso facile e facile poi alla fine di un gameplay c'è sempre questo usare le carte abbiamo trovato cash in questo caso 40.000 cavolo questo significa avere cash tutti i cash tranne quello tranne lo sfigato comunque ciao a tutti ragazzi alla prossima spero che vi è piaciuto il gameplay ciao a tutti ragazzi se volete video più lunghi li farò più lunghi di più di due se li volete se volete video di più di due li farò pure scusate per il microfono che purtroppo è nuovo quindi lo devo modificare cioè lo devo sistemare ma purtroppo non facevo video da tanto tempo quindi pensavo che sarebbe stato bello tornare dopo tanto tempo quindi ciao a tutti alla prossima e mettete un mi piace e iscrivetevi mi raccomando ciao